La frase di oggi è molto bella e non ha bisogno di tanti commenti, perché è una frase di un cristiano ottimista, di un cristiano che deve avere coraggio, di un cristiano che non deve farsi abbattere dalle tribolazioni. Quindi, visto che Cristo ha vinto il mondo, perché preoccuparci delle tribolazioni che incontriamo ogni giorno? È bella, bella questa frase. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Fantastico.